8 squadre, il meglio del futsal italiano, un trofeo in palio, la Coppa Italia, la sede, quella del Palafiera di Pesaro, che da domani a domenica ospiterà le Final 8 della competizione. Un evento, quello che ha più appeal per l'intera divisione calcio 5, che viene ospitato nella casa di una matricola ambiziosa come l'Ital Service di Patron Pizza. E la prima giornata della Final 8 Serie A si chiude in bellezza proprio con lo scontro tra una delle favorite al successo finale, l'acqua e sapone, contro i padroni di casa al debutto in Coppa Italia. Match che andrà in onda in diretta anche su ATV Marche, canale 12, dalle 20 e 15. Numeri alla mano, comunque, è il quarto più equilibrato. La loro squadra di Antonio Ricci stravinse a Chieti in campionato con un Giulio De Oliveira capace di realizzare ben 5 reti. Al Palafiera, per ora, Miro Diaz si prese la rivincita, impartendo una bella lezione ai pescaresi con 4 gol nella ripresa che ribaltarono lo svantaggio della prima frazione. Derby spagnolo in panchina, Tino Perez appena riabbracciato Gabriel Lima, tornato in gol con la Lazio a tempo di record. Dall'infortunio europeo con Little Futsal recuperando Luca Iann. Diaz può utilizzare il Rivera, squalificato per altri due turni, ma in campionato. L'apertura alle 14, con una sfida talmente affascinante da sfiorare il paradosso. La debuttante Camedosson parte, classifica la mano favorita contro il Caos Reggio Emilia, semifinalista lo scorso anno, una delle candidate alla coccarda tricolore. Final 8 nuova, vita vecchia, per l'Uparense e Axed Latina alle 16. Anche lo scorso anno Patavini e Pontini si sono incontrati ai quarti di finale, che si giocarono ancora nelle Marche a Tolentino. L'Happy Hour sarà con i bicampioni in carica. Quel Pescara sì ultra rimaneggiato, ma pur sempre col dinamico trio argentino campione del mondo, Cuzzolino, Resce e Burruto. Salas e Caputo a difendere la coccarda tricolore contro chi vuole conquistarla, Lollo Caffè Napoli, che si è appena ritrovato andando a vincere proprio a Pesaro grazie alla gesta di Ale Patias, nuovo top scorer del campionato. Insomma, ci sarà da divertirsi in un palafiera gremito col top del futsal e la diretta su ETV.